Questa moltiplicazione di piattaforme, questa moltiplicazione di contenuti ha generato per gli studi cinematografici, dove si possono essere girati non solo film, ma anche serie televisive, spettacoli unscripted, un'opportunità senza precedente. Ed è all'interno di questo contesto di mercato che nasce l'idea di rilanciare Cinecittà, consolidarla in termini infrastrutturali e farla diventare un'app di riferimento del nuovo mercato di produzione a biodiversità europea. Sarà un luogo all'avanguardia da un punto di vista tecnologico, perché il nuovo elemento da sottolineare è che gli studi non sono più solo luoghi dove si girano degli interni, grazie a delle scenografie fatte ad arte, ma grazie alla virtual reality sono anche luoghi dove si girano esterni, quindi dove un film può essere realizzato nella sua interezza. I più grandi studi hanno dei teatri più grandi, o quantomeno il nostro teatro 5, lo storico teatro di Fellini, che è grande 3500 metri quadrati, ha la dimensione giusta. Abbiamo bisogno di più teatri di queste dimensioni. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.